pace bene a tutti i presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet iniziamo questo momento di preghiera con il canto chiesa di dio chiesa di dio popolo in festa alleluia chiesa di dio popolo in festa canta di gioia il signore è con te dio ti ha scelto dio ti chiama nel suo amore ti vuole con sé spargi nel mondo il suo vangelo seme di pace di bontà chiesa di dio popolo in festa alleluia alleluia chiesa di dio popolo in festa canta di gioia il signore con te nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen carissimi un cordiale saluto a tutti voi oggi carissimi la nostra città della spezia fa memoria di san venerio che in tutta la chiesa è una memoria facoltativa mentre per noi della spezia è una solennità e in questo giorno vogliamo anche ricordare san venerio in modo particolare perché è il nostro patrono del nostro golfo e patrono di tutti coloro che si occupano che si occupano dei fari se qualcuno che sente questa mia preghiera abita alla spezia saprà che noi abbiamo un'isola l'isola del tino dove vi si trova un faro e di conseguenza c'è un farista che si occupa proprio di mantenere sempre in buone condizioni il faro ecco san venerio non è soltanto il patrono del nostro golfo ma è anche il protettore di tutti i fanalisti del mondo e allora vogliamo oggi unirci al nostro vescovo e a tutti i sacerdoti presenti sull'isola del tino anche noi vogliamo unirci tutti insieme in questa preghiera in questo momento di preghiera per ringraziare il signore per il dono di questo grande santo e in modo particolare oggi io personalmente voglio augurare ecco a tutti coloro che abitano a spezia una buona solennità di questo santo iniziamo ora tutti insieme in questo momento di preghiera Kyriele i son Kyriele i son Gloria, gloria, in eccelsis Deo, gloria, gloria, in eccelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi Ti odiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo, gloria, gloria, in eccelsis Deo. Dal primo libro dei Re In quei giorni, Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro, desideroso di morire. Disse, ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco, un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore. Lo toccò e gli disse, su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte. Gli fu detto, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come lo dì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva, Che fai qui, Elia? Egli rispose, Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi tentano di togliermi la vita. Il Signore gli disse, Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai a Zael, come re di Aram. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Insieme. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Bene. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono con amore. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Luca, gloria a te o Signore. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Lode a te o Cristo Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Carissimi, oggi festeggiamo questa grande festa per noi solennità di San Venerio. E sappiamo quanto i Santi hanno praticamente usato letteralmente la loro vita per ottenere proprio il Paradiso. E questo non è soltanto un compito che avevano i Santi, ma è un compito che ognuno di noi, cristiano cattolico, ha. Se noi davvero ci teniamo alla nostra vita, se noi davvero un giorno vogliamo apparire davanti a Dio Padre, se noi davvero vogliamo vivere in Cristo Gesù tutta la nostra vita, lo dobbiamo dimostrare ecco al Signore nei piccoli gesti d'amore quotidiani che facciamo. Come dico tante volte, la fede, quella vera, non è soltanto fede, ma è fede e opere buone, messe insieme. E' troppo importante, fratelli carissimi, che nella nostra vita ci sia fede, ma soprattutto opere buone. Perché se tu dici io ho una fede grande, lo potrebbero dire tutti, perché a parole si dice tutto. Io ho una fede grande, io amo tutti. Ma tu poi lo devi dimostrare, che tu davvero hai quella fede, tu davvero devi dimostrare che tu sei figlio di Dio, tu devi davvero dimostrare che veramente ami quanto dici con la bocca, lo devi fare anche concretamente tutti i giorni. Perché è questa la vera fede di Cristo Gesù. Non una fede che si deve limitare solo a parole, ma è una fede che deve essere anche dimostrata con i fatti. Quando i nostri genitori, ad esempio, ci dicono ti voglio bene, sei la mia vita, ma poi ce lo dimostrano con tutto quello che fanno per noi, lì davvero capiamo che è una vera madre e un vero padre. Perché chi davvero si prende sempre cura del proprio figlio, lo dice a parole, ma lo fa anche in gesti concreti, quello è un vero genitore. Allo stesso tempo, chi dice al Signore, Signore ti amo, e allo stesso tempo compie opere buone verso il prossimo, dimostra davvero questo amore nei confronti di Dio. E questa persona sarà ricompensata proprio con la vita eterna. Ma quante volte invece l'uomo parla solo, ma opere buone non ne compie? Ecco, questo è un problema. Ed è per questo che la nostra fede non deve essere mai una fede solo individuale, ma deve essere una fede collettiva. Mi spiego meglio. Molto spesso, al giorno d'oggi, le persone, quando pregano, lo fanno solo per se stessi. Io vorrei che il Signore mi aiuti in questo, io vorrei che il Signore mi protegga da quest'altra cosa. Magari io ho questa malattia, prego il Signore perché mi aiuti a debellarla. Che sono tutte cose giustissime, perché è fondamentale nella nostra vita pregare anche per la nostra anima e per la nostra fede. Ma la cosa più bella sarebbe, oltre alle nostre preghiere personali, ogni giorno trovare un po' di tempo per pregare anche per coloro che sono nel peccato. Per coloro che hanno fatto cose brutte. Pregare per loro, perché la preghiera che noi doniamo agli altri è veramente qualcosa di spettacolare agli occhi di Dio. È come quando noi abbiamo un oggetto che un'altra persona magari non ha, ce lo chiede in prestito, noi gli imprestiamo questo oggetto e questa persona è felice, perché gli abbiamo donato appunto questo oggetto. Lo stesso vale nella fede. Se noi riusciamo a trovare nella nostra giornata due, tre, anche quindici minuti di tempo per pregare, non soltanto per noi stessi, ma soprattutto pregare per coloro che ancora non credono, pregare per coloro che fanno del male, pregare per chi si è smarrito. Ecco, se noi davvero preghiamo anche per queste persone, veramente la nostra fede sarà vera. Ma allora a questo punto qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché è così importante non solo pregare per noi stessi, ma anche per il prossimo, specialmente per i più peccatori? Perché Dio Padre ha mandato il suo figlio nel mondo affinché il mondo potesse essere salvato per mezzo di lui. E Gesù molte volte nel Vangelo dice, non sono venuto per i sani, ma per i peccatori. Tutti noi siamo peccatori, però ognuno di noi ha una fede leggermente diversa. Chi ha un po' di più, chi ha un po' di meno, e addirittura poi ci sono quelle persone che magari non hanno capito niente di cosa significhi avere fede. Ecco, le nostre preghiere quotidiane verso il prossimo devono essere proprio preghiere per queste persone, per dire, Signore Gesù, San Venerio nel caso odierno, o qualsiasi santo, aiutate questa persona affinché possa ritrovare la strada giusta. Nelle letture che abbiamo fatto in questi giorni vi avevo spiegato che la Madonna è la nostra mamma celeste e non vede l'ora di trovarci, in caso dovessimo smarrire la strada, per aiutarci a tornare sulla giusta strada. Ecco, se noi dedichiamo una nostra preghiera a un peccatore, la Madonna lo trova ancora più facilmente e ancora più facilmente prega per lui. Capiamo quindi, fratelli e sorelle, quanto sia importante non solo pregare per noi stessi, ma pregare soprattutto per il prossimo. Se noi davvero pregassimo per il prossimo, veramente perché lo sentiamo nel cuore, significa che avremo davvero un cuore di carne e non un cuore di pietra. Ma come possiamo noi amare degnamente il nostro prossimo, pregare per i peccatori, pregare per noi e pregare bene, pregare degnamente? Come possiamo noi pregare degnamente? Ce lo dice oggi il Vangelo, quando Marta ha invitato Gesù e la sorella di Marta, Maria, che non è la madre di Gesù, è un'altra Maria, si mette ai piedi di Gesù e lo ascolta, mentre invece Marta è troppo occupata nelle faccende domestiche. Ecco, questo deve essere un insegnamento grande. Se nella nostra vita mettiamo al centro della nostra vita solo le nostre faccende, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, se noi facciamo così e non diamo spazio alla preghiera e agli insegnamenti di Gesù, non potremmo mai essere veri cristiani cattolici. Maria invece si siede ai piedi di Gesù, perché vuole ascoltare tutto quello che lui ci vuole dire. Ecco, se noi davvero ascoltiamo ogni giorno la parola di Dio e la meditiamo nel nostro cuore, potremmo davvero compiere opere buone, veramente degne di essere ricevute da Dio. Perché se noi davvero comprendiamo quello che Gesù ogni giorno ci vuole insegnare, è molto importante, perché se noi capiamo che Gesù ci dice amatevi gli uni gli altri, se noi impariamo che Gesù ci dice rimanete nel mio amore, se noi impariamo che Maria è la nostra mamma celeste e lei intercede sempre per noi, se noi capiamo tutte queste cose, le possiamo anche mettere in pratica. Gesù dice, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e noi amiamo, serviamo e aiutiamo il nostro prossimo, avremo davvero una fede vera, perché non solo abbiamo ascoltato la parola, ma l'abbiamo appunto messa in pratica. Questo ci vuole insegnare oggi, questo Vangelo e la parola di Dio. Oggi ci vuole insegnare questo, la parola del Signore, che la nostra vita deve essere una vita basata sugli insegnamenti di Gesù e nella concretezza di tutti gli insegnamenti dati da Gesù a noi. La nostra fede deve essere una fede basata su Cristo e sulle opere buone, perché una fede senza opere buone è come se fosse sterile. La fede di Gesù è principalmente amore e proprio per questo noi dovremmo sentire nel nostro cuore un sentimento d'amore che ci dice addirittura ma io prego per questa persona che magari è anche in carcere, questa persona che magari ha fatto anche cose brutte nei confronti di altre persone. Bene, chi veramente ha una vera fede prega anche per queste persone, perché noi sappiamo, cristiani cattolici, che qualunque bestemmia o qualunque tipo di peccato noi faremo nella nostra vita, se davvero avremo il vero e sincero pentimento nel cuore, Dio ci perdona. Noi non dovremmo mai, fratelli e sorelle, dubitare dell'amore che Dio ha per noi, perché Dio Padre è un Dio di misericordia, di fede e di perdono. E proprio per questo noi dovremmo sempre avvicinarci a Lui ogni giorno, perché Egli è il porto sicuro della nostra vita, un porto dove non ci sarà mai uragani, trombe d'aria, tempeste, no, ci sarà sempre bonaccia, perché Dio Padre ci conduce sempre sulla retta via, cioè una via dritta, non tortuosa, una vita santa Egli ci fa vivere, perché ci ha donato il Suo Figlio e tutti gli insegnamenti del Suo Figlio Gesù per noi sono un grande tesoro, non solo una ricchezza spirituale, ma soprattutto un vero tesoro di vita, perché le parole e gli insegnamenti di Gesù sono proprio quelle parole, quei gesti, che hanno fatto sì che certe persone diventassero santi e sante. Dal Sacratissimo Cuore di Gesù ogni giorno migliaia e migliaia di preghiere vengono ascoltate dal Padre Celeste e anche noi verremo sempre ascoltati da Dio. Anche se noi fossimo peccatori che ogni tre per due pecchiamo, se veramente ci avviciniamo a Gesù per chiedergli qualche cosa e lo facciamo davvero con fede e con amore, Egli ci ascolta. Ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica in opere buone. Questo è ciò che fa il vero cristiano e tutto questo Dio lo vede e ricompensa chi fa questo. La nostra fede è una fede santa perché c'è la donata a Dio ma dobbiamo averne cura della nostra anima e della nostra fede e dobbiamo davvero, carissimi, vivere sempre la nostra vita nella fede e nell'amore di Dio Padre. certi, come ci dice il Salmo di oggi, che Egli ci indicherà il sentiero della vita, cioè un sentiero che porterà sempre al Paradiso. Se noi davvero vogliamo vivere la nostra vita nella fede, nell'amore e nella pace e veramente noi ci mettiamo in ascolto di tutti gli insegnamenti di Gesù, davvero vivremo una vita di fede e di amore. E allora ringraziamo davvero il Signore per il dono di San Venerio e chiediamo a questo grande santo che ogni giorno ci faccia vivere la nostra vita con questa consapevolezza. Dio Padre è un Dio d'amore. La mia fede deve essere una fede basata non solo sulle preghiere mie personali ma soprattutto sulle preghiere del mio prossimo, verso il mio prossimo. Dio ha mandato il suo figlio per far sì che io e in generale tutti noi cristiani cattolici potessimo essere pronti un giorno per andare lassù davanti a Dio Padre. Il Signore Gesù ci ha insegnato tutto quello che dovremmo fare per avere santa potremmo dire la nostra vita. Ecco, mettiamo in pratica fratelli e sorelle gli insegnamenti che ci ha dato Gesù. Amiamoci gli uni verso gli altri. Ascoltiamo sempre la sua parola ma soprattutto mettiamola in pratica con le opere buone perché chi veramente compie le opere buone per amore questo sarà sempre ricordato dal Signore Gesù perché chi fa la volontà di Dio da Dio è stato generato. Buona festa di San Venerio a tutti voi. Viva Gesù viva la Chiesa! Grazie a tutti fratelli e sorelle per la vostra partecipazione. Vi ricordo questa sera alle ore 18 le letture di San Giovanni Crisostomo. Domani festa dell'esaltazione della Santa Croce. Domani sera ci sarà alle 16 e 30 la Via Crucis che faremo qui in cappella e alle 18 le letture dell'esaltazione della Santa Croce. Domenica 15 settembre alle 11 le letture della domenica e sempre il 15 settembre alle 3 del pomeriggio le letture in onore della Madonna addolorata. Vi ricordiamo inoltre lunedì 16 settembre alle 9 del mattino ci sarà un momento di preghiera dedicato a tutti i bambini e i ragazzi della Val di Vara e di tutta la Diocesi di La Spezia Sarzana e Brugnato dove pregheremo proprio per loro per un buon rientro a scuola. E sempre il 16 settembre alle ore 18 le letture dei Santi Cornelio e Cepriano. Grazie a tutti canto finale Lodate Dio Lodate Dio Padre che dona ogni bene Lodate Dio ricco di grazia e perdono Cantate a Lui che tanto gli uomini amò da dare l'unico figlio Buona giornata a tutti voi Dio Dio